Consigli fantacalcio giornata numero 8. Lo so che si è appena chiusa una giornata, lunedì sera si è chiusa la giornata e iniziamo già a preparare quella nuova perché comunque sia coppe o non coppe, venerdì alle 18.30 si parte e si parte con Empoli Udinese. Tra l'altro se posso dire non è sta gran partita come prima partita della giornata, avrei preferito una partita con squadre dove avessi più dubbi su chi giocherà titolare o meno perché i dubbi in Empoli e nell'Udinese non sono tantissimi. Ad ogni modo come vedi faccio uscire il video oggi, poi correggeremo il tiro a seconda dei giocatori che saranno impegnati nelle varie coppe, ci possono essere infortuni, speriamo di no, comunque ci sarà del turnover per cui ci aggiusteremo il tiro piano piano avvicinandoci alla giornata di venerdì. Intanto se vuoi un consiglio da me vieni oggi in live su Stadeo dalle 16.45, è una figata Stadeo, trovi il link qui sotto in descrizione, è tutto gratis e ci parliamo a voce. In più ti consiglio un'applicazione Fanta Algoritmo, Fanta Algoritmo è un'app fantastica perché ti aiuta a schierare la tua formazione al meglio giornata per giornata, ti dà proprio gli indici di schierabilità della tua formazione e durante l'asta invece ti aiuta proprio dicendoti chi chiamare, quando chiamarlo e quanto pagarlo. Trovi Fanta Algoritmo al link qui sotto in descrizione, c'è tutta una parte free ma se vuoi utilizzare Fanta Algoritmo al pieno con uno dei suoi abbonamenti utili dal codice sconto FANTAGOL20, utilizzalo così risparmi il 20%. Come detto si parte venerdì pomeriggio alle 18.30 con Empoli Udinese, ricordati che già dalle 17.30 sapremo le formazioni ufficiali. Ah, cosa molto importante, oggi andiamo in live su Stadeo, però venerdì pomeriggio faremo delle altre live per prepararci al meglio alla nostra giornata al Fanta Calcio, quindi farò poi uscire il programma ufficiale delle mie live di giornata. Lo so, è difficile starmi dietro, sto su troppe piattaforme, sto pure sul pianerottolo. Nelle Empoli diamo fiducia a Cambiaghi, Baldanfi che è veramente in forma, anche Ebuei, Ebuei da mettere assolutamente oggi e volendo anche Luperto può essere buono. Poi ti dico due scommessine, Ciccio Caputo che fin qua non ha reso tanto però è già tornato dall'infortunio ed è partito subito titolare col Bologna che non credevo e Simone Bastoni. Lui si gioca al posto con Cacace, occhio che l'ultima volta ha giocato Cacace, però a parte tutto Bastoni secondo me di un livello superiore prima o poi si imporrà diventando il titolare. Disconsigliati nell'Empoli, obiettivamente non c'è nessuno perché se vai a vedere alla fin fine l'Udinese ha fatto poi 4 gol in 7 partite, circa la media di mezzo gol a partita. Oh, l'Empoli però ne ha fatto uno solo eh. Nell'Udinese per Eira, oggi va messo per Eira assolutamente, Samarvic. Ti direi di provare a dar fiducia a Silvestri che si ne ha presi due nell'ultima partita ma stavolta diciamo che c'è area di clincito al massimo di un gol subito. Poi ti direi anche di dar fiducia agli attaccanti, Toven e Lucca. Scommessa, questo qui sotto il mio bracciolo, Saces, scommessina anche da subentrante qui potrebbe fare bene. E sarei anche tentato da Ebosele come scommessa. Lecce-Sassuolo. Nel Lecce ricordiamoci che siamo contro una difesa e qualche gol lo concede quindi Krestovic mettiamolo, mettiamo Strefetta, mettiamo Rafia, mettiamo Alquist. Finiciamo la parte più offensiva del Lecce. Chi evitare? Io evito Falcone, lascia stare che ne ha presi diversi dal Napoli perché al di là del 4 gol presi dal Napoli se guardi Lecce fin qui ne aveva presi soltanto 5 più i 4 del Napoli. Quindi ne aveva presi 5 in 6 partite, ottima media. E comunque Sassuolo ne ha presi più perché ne ha presi 13. Io ti direi di evitare quindi Falcone assolutamente non mettere Gallo, Pongracic evitiamoceli. Possiamo lasciare un attimo il margine della scommessa a Baschierotto, ma solo perché è proprio lui. Io evito anche Gendry. Nel Sassuolo, Mimmo Berardi, Bairami, mettiamo anche Laureante. Ti dico Pinamonti ma ti dico anche che secondo me partirà a titolare Mulattieri. Quindi se io avessi Mulattieri oggi come scommessa lo proverei anche se è contro un buon portiere. Mi evito Tolian che è dal lato di strefezza. Vabbè, 3 soldi si evita da solo anche se col Bologna ti dirò non ha fatto neanche una brutta partita. Proverei a dar fiducia a Boloca come scommessa. Consigli oggi più schierabile di altre volte. Inter-Bologna. Nell'Inter peserà la Champions quindi ci può essere del tornore. Questa è stata la formazione titolare con la Benfica nella vittoria dell'Inter. Allora col Benfica se vedi Di Marco titolare, Dumfries titolare. Tra l'altro ha giocato praticamente tutta la partita Dumfries. Poi Turam, Lautaro titolari. Con anche Cialanoglu, Mkhitary, Ambarella. Ok, guarda la difesa. Pavarda, Cervi, Bastoni. Quindi questo giocatore qua, Darmian, giocherà e io cercherei di trovargli un posto. Nell'Inter per me puoi andare praticamente in olin, c'è solo da capire chi giocherà. Ti direi dai un posto a Carlos Augusto. Perché giocherà titolare lui al posto di Di Marco quasi sicuramente. Occhio però che è dal lato di Orsolini. C'è di bello che Carlos Augusto però gioca praticamente a centrocampo. Per cui Orsolini se lo soffrirà di più il difensore in questa postazione. Che non so poi se sarà Bastoni. Perché se guardi qui Bastoni a Cervi, qui ci sarebbe Pavard. È la difesa che ha giocato titolare in Champions. Secondo me uno spazietto ad Evrai si troverà in questa difesa. Occhio anche a Quadrado. Perché sta riacquistando ferma fisica? Consideriamolo una scommessa. Perché sulla carta parte comunque Dunface. Però scommessa a Quadrado. Ah, scommessina anche Sanchez che io credo che sarà titolare. Detto che io te ne consiglio diciamo sempre 5. A centrocampo ci sono meno cambi disponibili stavolta. Io comunque ti direi Lautaro mettilo anche da subentrante. Tu Ram si mette. Sanchez lo metto. Trovo Darmian. E ti dico Carlos Augusto. Anche Sommer è nel tutto schierabile. Nel Bologna. Nel Bologna. Ora, credo che veramente giochi questo attacco. Perché Carson ha riposato l'ultima. Quindi stavolta può giocare. Però se lo metti su considera una scommessa. Orsolini è da mettere perché tre gol non è che li ha fatti per caso. Tra l'altro vatelli a rivedere perché il primo è veramente bello. Ferguson. Questo lo metto. Ti sconsiglierei Virkve perché anche se è mosso molto bene contro l'Empoli. Qui diciamo che secondo me verrà chiuso molto molto bene dall'Inter. Evita anche De Silvestri. Come scommessina se vuoi Kristiansen. Io eviterei anche Skorupski anche se fin qua ha fatto veramente bene. Diciamo che però è una difesa diciamo imbastita un po' così. Perché mancano due giocatori importanti come Lukumi e Posh. Entrambi assenti. Quindi io non so poi Calafiori contro un attacco con Turam. Magari Lautaro o Sanchez Turam. Come si troverà? Tra l'altro Calafiori è su Starks. Starks è l'exchange dove compri e vendi le valute dei giocatori. Loro token ufficiali con tanto di licenza. E per questo puoi farci delle plus valenze. Ma in più ci sono due giochi. Nel primo gioco a seconda delle prestazioni del giocatore. Starks brucerà un certo quantitativo dei suoi token. Ad esempio nell'ultima partita i Calafiori con l'Empoli. Ne sono stati bruciati ben 7700. E tu sai bene che meno token ci sono e più valgono. Ovviamente più una cosa è rara più vale. Invece il secondo gioco che partirà alla fine del mese. Sarà un fantasy game in stile fantacalcio. Dove andrai a schierare 5 giocatori. A seconda della percentuale che avrai schierato. Di un giocatore rispetto all'altro. E a seconda ovviamente dei punteggi che fanno questi giocatori in stile fantacalcio con voto statistico. Concorrerà a scalare delle classifiche per vincere dei premi ricchissimi. Entra su Starks passando al link che trovi qui sotto in descrizione. Avrai per te in omaggio 15 euro al tuo primo deposto. Oh dimmi poi chi hai comprato su Starks. Juve Torino ragazzi. Derby della mole. Quanto avrai voluto che questa fosse stata la partita di venerdì pomeriggio. Però capisco che per le tv te la mettono sabato pomeriggio. Nella Juve intanto la tindica cambiaso. Io ho la sensazione che alla fine metteranno Kostic. Purtroppo probabilmente la salterà Vlaovic dal primo. Diciamo che per questo dettaglio aspetta le parole di Allegri. Di solito spoiler abbastanza ai giocatori che mette. Ad ogni modo va messo Chiesa. Io metto anche McKinney. Metto Rabiot. Metto Danilo. Metto Milik come scommessa. E metto anche Kostic. Kostic diciamo come scommessa perché è in ballottaggio. Da mettere Shevniz. Te ne ho detti tanti di nomi. Bello anche Bremer come ex. Diciamo che puoi andare in all in in questa Juventus. Ma è un derby. Quindi io ti dico anche. Non sottovalutare il Torino nel derby. Perché il derby è una partita tutta diversa. Quindi io metto Zapata. Metto Radonich. Metto Vlasic. Scommessa. L'altro scommessa. E ti direi anche buono Bellanova. Oggi eviterei Rodriguez perché secondo me subirà molto le incursioni di Chiesa. Età mezza ragazzi. È un fuori ruolo al contrario. Io non c'è una pista che mi gioca centrale. Ok che manca buongiorno e va bene. Ma non lo metto. Poi con la Juve ha maggior ragione. Scurs nel tutto. Genoa Milan. Occhio che il Milan farà del turnover in vista della Champions. A proposito di Champions. Se vuoi fare un Fanta Calcio sulla Champions. Scaricati Fanta Eleven. Infatti su Fanta Eleven sono presenti due Fanta Calcio Premium. C'è un Fanta sulla Champions. Guarda qui che premi. La maglia autografata di Vinicius Junior. Tablet. Completi da calcio. Maglie da calcio. Felpe. Power Bank. E sulla serie A i premi sono anche più alti. Computer. Per iMac. Bici elettriche. La maglia autografata di Mbappé. Televisioni Samsung. Smartwatch. Completi da calcio. Borsoni. Tute. Felpe. Tablet. Mono e pattini elettrici. E quant'altro. Iscrivere una squadra costa 19,90. Iscriverne 3,54,90. Ma se utilizzerai il codice sconto FantaGOL. Risparmierai il 20% su qualsiasi pacchetto di squadre tu voglia iscrivere. Ti danno 60 punti per ogni giornata che hai saltato. Quindi che aspetti? Sky che a Fanta11. Oh! Su Fanta11 ci sono anche le mie leghe gratuite. Nel Genoa io proverei a schierare Gudmundson Retteghi visto il momento. E proprio come totale scommessa Malinoski solo per il giocatore che è. Per il resto avrei dei dubbi. Se vuoi potreste pensare di fare la scommessa Dragusin ma finisce lì. Non schiererei assolutamente Bani. Non schiererei The Winter perché lì rischia di beccarsi Ternandes. Ma ad ogni modo mi fa poca fiducia anche Vasquez nel Milan. Ora noi non sappiamo con che formazione scenderà in campo stasera. Infatti ti dico meglio se per il Milan e le altre squadre che devono ancora giocare in Europa ci sentiamo nelle live. Non mancare nelle mie live. E ricordati io sono Michele e ti aiuto a fare al meglio la tua formazione al Fanta Calcio. Per cui iscriviti al mio canale se ami il Fanta e non scordare il like scaccia sfiga. Ora contro il Genoa secondo me ci sarà del turnover e non credo di vedere questi tre giocatori insieme. Posto che Pulisic mi ha stupito perché l'ha schiaffato titolare in tutte e tre le partite di fila. Stavolta io credo che qui giocherà Cioquev. Dubbio anche su giro titolare. Sembra che Okafor abbia scavalcato nelle gerarchie. Iovic potrebbe giocare lui. Comunque sia un Okafor come scommessa lo metterei. Proverei anche Teo Hernandez perché non credo che lì ci possa essere il gran turnover. E occhio a chi giocherà in Champions tra Florenzi e Calabria. Quello che non gioca in Champions lo schiererei assolutamente qua. Monza Salernitana. Nel Monza. Vabbè col Pani, Colombo si mettono. Tra l'altro Colombo stava per fare una doppietta contro Sassuolo. Qui ti indica Mota. Occhio. Occhio che per quel Papu Gomez lì l'ho visto anche abbastanza bene. L'ho visto anche abbastanza in forma. Nel tutto che la forma ancora realmente non ce l'ha. Metterei Chiracopoulos. Può essere una buona partita anche per Di Gregorio. Ti dico però in questo Monza, in questo istante, puoi andare praticamente in olì. Nella Salernitana. Non so per quanto possa andare avanti l'ostracismo verso un dia titolare. Io infatti credo che qua troveremo dia titolare. Anche se Jova ne ha fatto molto bene. Occhio anche a Candreva in dubbio di contro. Nel Monza è in dubbio Pessina. Che è un giocatorino non da poco in quanto è rigorista in questo istante. Voglio dare fiducia a Castanos. Come scommessa l'ovato e la butto lì un Poinen che potrebbe trovare un posto. Ma proprio a livello scommessa. Occhio a Mazzocchi che non ha una grande media. C'ha un Chiracopoulos che da quel lato vedrai che pesterà molto. Frosinone Verona. Nel Frosinone ragazzi. Che dire va messo. Sole va messo. Marchizza veramente in forma. Si mette anche se dal suo lato Faraoni lo conterrà abbastanza. Prova a mettere di nuovo Mazzitelli. E occhio di là. Li ti indica bye. Però in fondo anche caso è disponibile. Diciamo che se la giocheranno. Se vuoi io proverei di più un caso. Ma come scommessa. Nel Verona io metto Ngonge. Metto Duda. Metto Lavrovic. E qui reparto scommesse. Se ti indica Cruz titolare. Io credo che alla fine non faccia giocare lui. Anche se non è tanto male. Secondo me si tornerà a dar fiducia a uno tra Bonazzoli e Juric. Più Bonazzoli nonostante queste percentuali. E occhio che è tornato anche il ritmo. Mancava da tantissimo. Mi piacerebbe anche indicarti un Saponara come scommessa. Magari con Duda arretrato. Occhio che Faraoni scalato in quella posizione con Terraciano che gioca lì. E secondo me sarà veramente così. Diciamo che è meno appetibile al Fanta. Lafio Atalanta. Tutte e due le squadre sono impegnate nelle coppe. Per cui vediamo con che forma arriveranno. Nella Lafio stiamo molto attenti alla formazione che giocherà in coppa. Per capire chi sarà titolare. Non tanto Ciro Immobile che scommè alla fine in un modo o nell'altro lo buttano in campo. Il più è Felipe Anderson che magari potrebbe far turnover o Zaccagni. Uno dei due. E anche occhio qui al solito duello Kamada-Guendonzi. Diciamo che in questa Lafio quello più sicuro di solito alla fine è Luiz Alberto. Ciro Immobile. Allora a chi mettiamo? Ti dico potenzialmente tutto il tridente. Anche se l'Atalanta dietro non sta andando poi così male. Se vedi ha preso solo 5 gol. Terza difesa dopo Inter e Bologna. E la Lafio paradossalmente sta segnando poco. Solo 7 gol fatti. Quindi 1 a partita. Poco per quella che è la Lafio a cui siamo abituati a pensare noi. Lafio che lo scorso anno ha fatto 60 gol. Io proverò a schierare il giocatore che non ha giocato in coppa tra Kamada-Guendonzi. E poi mettiamo Luiz Alberto. Scommessa quel Pellegrini proverò a lanciarlo. Anche Romagnoli oggi nel tutto è schierabile. Nonostante l'Atalanta di solito faccia paura davanti. Allora qui attacco Rebus. Lukman si prova a mettere. Occhio che torna disponibile a Scamacca. Ma credo che giocherà tipo un quarto d'ora alla fine. Si può pensare di dar fiducia a Pasalic. Però quello che ti dà più affidabilità qui è Kuhn-Mainers. Proverai a mettere anche Zappacosta oggi. E come scommessa Ruggeri. Chi non metterei? Scalvini. Cioè questa non è quella gran partita per lui. Ma in realtà per tutta la difesa qui. Cioè per tutti e tre i centrali. Con l'Asina c'è Scalvini, Toloi. A meno che alla fine nella Lazio non ti giochi un Pedro a destra. Allora con l'Asina ci dici vabbè non ha da marcare. Chissà quel giocatore che proprio ti salta di continuo. Ma diciamo che sono tutti e tre a rischio giallo. Soprattutto Scalvini e Toloi. Cagliari-Roma nel Cagliari. Io vorrei provare a dar fiducia finalmente a Petagna come scommessa e un po' di più a Luvumbo. Possiamo tentare Solito Nandes che tanto non credo che se ne esca con qualcosa peggio di un 6. E possiamo mettere come scommessa Zappa. Sperando che nella Roma da quel lato Spinazzola vada a riposare in una sorta di turnover per la Coppa. Occhio anche a chi giocherà in Coppa tra Dybala e Lukaku e Isharawi che si contiene il posto con Dybala e Belotti che si contiene il posto con Lukaku. Io credo che ci sarà del turnover qui in campionato. Da mettere Bove assolutamente. Ovviamente da mettere chi riposerà in attacco nella Roma. E comunque un Belotti scommessa se non gioca titolare in Coppa penserei di metterlo. E proverei a tornare a dare fiducia a Pellegrini e anche a Mancini. Chissà che questa non sia una volta buona e ti fa un'incursione. Magari da calcio d'angolo. Ti dico anche che oggi non sarebbe da buttare a lui Patrissio perché in fondo il Cagliari fin qua ha segnato pochissimo. Napoli-Fiorentina partita che chiuderà la giornata domenica alle 20.45. Partita dove potrebbe esserci un gran turnover generale. Il Napoli con Real ha giocato con questa formazione. C'è di bello che il Napoli ha giocato il martedì sera e giocherà domenica sera. Sono tanti i giorni. In realtà possono recuperare tanti giocatori. Credo che possa fare del turnover tra Oliveira e Mario Rui. Quindi facile che parta titolare Mario Rui e proverei a schierarlo. Anche se Mario Rui comunque non è da un lato facile. Perché da quel lato comunque giocherà Gonzale. Siccome è l'attaccante che più dà problemi alle varie difese. Politano ha il solito duello con Raspadori. Vedremo. Osimene e Kvara hanno giocato l'intera partita. Però come detto possono recuperare. Io Osimene e Kvara li schiererei comunque se ce li avessi. Ma pure Politano. C'è anche il dubbio che possa battere lui rigore al posto di Osimene. Anche se non credo poi alla fine. Qui effettivamente tinica Mario Rui. Occhio al fattore Gonzale. Però nel tutto si può schierare. Questa volta preferisco Di Lorenzo. Anche se di solito mi fa più voglia quella fascia lì. Però Di Lorenzo secondo me oggi è da mettere. Di Lorenzo che ha poi una media migliore generalmente. Nella viola. Occhio a chi ti gioca in Coppa. Perché probabilmente ti fa il turnover di qua. Anche perché poi la Fiorentina giocherà giovedì. Quindi diciamo che ha meno tempo per riposare. Per cui se ti vedi un Zola titolare in Coppa. Ma non credo. Te lo troverai a riposo di qua. Io credo sia facile giochi in Zola in campionato. Giocherà secondo me anche Gonzale. Ci deve essere a Parisi. Però non mi fa voglia di schierarlo. Perché comunque sia che si becchi un Politano o un Raspadori. Sono difficili da marcare. Caio Dè che era una mia scommessa nell'altra giornata. In questa giornata. Con un Quarascheglia. O forse un Elmas da quel lato. Comunque non mi fa voglia. Ecco Elmas può essere una bella scommessa. Guarda se gioca in Coppa o no. Io credo che subentri un pochino. Quindi siccome in campionato si può mettere come scommessa. Eviterà i centrali. Soprattutto Quarta. Rischio giallo tantissimo. E per il resto lì ti indica Brecalo. Io penserei anche ad una scommessa qua a me. Magari con un Gonzale spostato. Però grandi scommesse contro il Napoli. Con un italiano che ti gira di continui giocatori. Non so se le farei. Questi erano i miei consigli per l'ottava giornata al Fanta Calcio. Sai che ci rivedremo in live. Aggiusteremo il tiro insieme. Se vuoi un consiglio sulla tua squadra. Lascia un commento qui sotto. Vedrai che la community ti risponderà. Mi raccomando. Ricorda il like. Scaccia sfiga. E l'iscrizione. Oh. Ami il Fanta Calcio. Sono un canale che parla di Fanta Calcio. Cioè. Non è che parlo di sexy. Spaventa. Passa. I sexy. Che ti fanno vincere il Fanta Calcio. Ciao. E buon Fanta a tutti.